Oggi parliamo dell'espressione inglese to throw somebody a bone, to throw somebody a bone, to throw, lanciare a qualcuno un bone, un osso. Che cosa vuol dire? Ma può voler dire due cose. La prima, dare un contentino a qualcuno. Quando si lancia un osso ad un cane, per esempio, ma gli si sta dando un contentino, perché alla fine sull'osso non è che c'è molto da mangiare. Cioè sì, lo rendi felice magari per farlo smettere di abbaiare, no? Gli dai una piccola cosa per renderlo un attimino felice, in questo caso magari per farlo smettere di abbaiare, quindi un contentino. L'altro significato è dare un aiutino a qualcuno. Per esempio, la faccio metà in italiano e metà in inglese questa frase, Mio fratello mi ha chiesto di aiutarlo con il suo lavoro, so I threw him a bone and I gave him one of my clients. Quindi mio fratello mi ha chiesto aiuto col lavoro e io gli ho dato un aiutino, ma un piccolo aiutino, e gli ho ceduto uno dei miei clienti. A dire la verità c'è anche un terzo significato che è molto simile in realtà, e cioè dare un indizio a qualcuno. Per esempio, se qualcuno ti fa una domanda molto difficile, tu ci pensi un po', ci pensi un po', ci pensi un po', e poi gli dici, throw me a bone here, throw me a bone. Cioè, ci sto pensando ma non mi viene, dammi un aiutino, dammi un indizio. Quindi si può usare anche in questa maniera. Throw me a bone here, give me a bone, you have to give me a bone because I don't know how to answer.